Ciao a tutti lettori e amici di Interferenze. Oggi sono qui per parlarvi del tema principale del numero di maggio e che è anche un po' il concept in generale del nostro magazine, la solidarietà. Perché lo definisco il concept, il tema principale del nostro giornale? Perché interferenze vuol dire proprio questo, vuol dire creare una piccola interferenza, una piccola frattura in quelle frequenze già rodate, già sentite, per poter permettere un punto di vista diverso da quello solito che ci è stato imposto. Un punto di vista che non riguarda soltanto il modo di fare informazione, ma proprio di concepire il mondo, di concepire le cose che ruotano intorno al mondo, ma soprattutto le emozioni. Ebbene, la solidarietà mai come in questo periodo storico ha incinocchiato un mondo intero, senza distinzioni economiche, sociali, generazionali né geografiche. E proprio per questo la solidarietà è un valore che ora come ora deve essere urgentemente ritrovato. Ed è per questo che abbiamo voluto dedicare il numero di maggio a questo grande valore che ognuno di noi, tutti i giorni, a prescindere da quello che accade nelle proprie vite, dovrebbe avere sempre ben forte e saldo dentro di sé. Ma per capire meglio cosa sto dicendo, facciamo un piccolo passettino indietro, precisamente alla lingua latina. Solidarietà deriva dall'etimo solidus, che vuol dire solido. E già questo racchiude la vera essenza di questa parola. Cosa ci viene in mente quando pensiamo a qualcosa di solido? Sicuramente a qualcosa di compatto, di unito, di coeso. E la coesione è proprio la parola chiave, il messaggio primo, il messaggio intrinseco e più forte, che sta alla base della solidarietà. E la coesione, in quanto tale, ha bisogno della reciprocità, perché senza di essa la coesione non esiste. Provate a pensare a un solido, ecco, a qualcosa di compatto. Se improvvisamente tutte le sue piccole parti, le sue componenti, perfino gli atomi di cui è composto, iniziano a venire meno. Perfino quel solido così forte inizia a sgretolarsi. E pian piano, sgretolandosi, perde i suoi pezzi, si indebolisce, diventa sempre più fragile. Cosa che invece non accadrebbe mai se quel determinato oggetto ha un buon collante, una buona forza di coesione, che tiene tutti i suoi pezzi insieme. Ecco, la reciprocità è il collante della coesione. La reciprocità è la volontà di mettere da parte qualcosa di sé, della propria individualità, a favore della collettività. Perché quel qualcosa che può nascere da un insieme è più grande, più importante, più forte di quello che potrebbe nascere se si volesse crearlo da soli. Ed ecco che quindi la reciprocità, la coesione, la forza diventano tutte declinazioni della stessa parola, solidarietà. La solidarietà è questo, è empatia, è umanità, è la voglia di mettersi in gioco per aiutare qualcun altro e venirsi incontro e aiutarsi senza distinzione, senza limitazioni, senza un perché. E aiutarsi perché ci si mette nei pani dell'altra persona, perché si compatisce la situazione, il dolore, il malessere. E non lo si vuole più superare da soli, ma tutti insieme, perché mai come adesso l'unione fa veramente la forza.